Accigliato? Corrucciato? Spalletti? Non ci siamo ben capiti. Intanto cominciamo col dire che chi fa del male all'Inter, chi fa qualcosa che vada contro gli interisti che sono rappresentati giustamente dalla squadra che va in campo e quindi chi fa il male alla squadra mi riferisco alle dichiarazioni di ieri, è il mio nemico. È il mio nemico, cioè per forza di cosa? Non puoi far male alla squadra, in un certo modo, soprattutto se non è colpa della squadra, quindi è un male gratuito. Oggi facciamo uno sfogo vero, ma vero, un vero sfogo no, le pagliacciate del web. Uno sfogo dicendo le cose, uno sfogo di contenuti veri. Partiamo dal principio. Dopo le dichiarazioni sentite ieri da Spalletti, in cui va contro a Politano, a Borca Valero, a Brozovic, a Joao Mario. Oggi vado io, così, siccome lo fa anche lui, per sport, contro Spalletti, che poi non è tanto per sport perché delle ragioni le abbiamo. Diciamo le cose come stanno. Un allenatore che per adesso almeno, e anche per l'anno scorso, ha tolto e sta togliendo punti alla squadra perché sfido chiunque a dire che questa squadra non meriti i punti che ha o addirittura qualche punto in più. Ricordiamoci di Bergamo, ricordiamoci del Tottenham, ricordiamoci della Roma, della Juve, ma solo perché sono le ultime, perché se no possiamo andare a qualcosa più indietro senza toccare l'anno scorso. Si può dunque dire, correggetemi se sbaglio, che questa squadra, come Rosa, almeno quest'anno, è superiore al livello del tecnico se il tecnico sta togliendo punti alla squadra. Un allenatore che è dimostrato, quindi non è che sono più cose soggettive, è dimostrato, non ha capito il ruolo di molti giocatori da quando è arrivato ancora l'anno scorso. Voglio ricordarvi di come ha bullizzato Gio Mario l'anno scorso, di come ha bullizzato Caramò, di come ha bullizzato Cancelo, come ha bullizzato Rafinha e ora anche di come sta bullizzando Lautaro, per esempio. Cosa intendo per bullizzare? Intendo che li prende per il culo alla fine con i suoi comportamenti perché o li critica di troppo o perché li mette in ruoli non loro, non consoli, perché non li capisce, non capisce le loro caratteristiche e poi li critica facendoli magari fuori rosa, screditandoli, svalorizzandoli. Io mi ricordo bene Gio Mario l'anno scorso e quante volte ho detto che non era un trequartista, un esterno ma era una mezzala, quante volte l'ho detto perché sono stanco di ripetermi. Quest'anno ha voluto i suoi pupilli Nainggolan che fino a prova contraria deve ancora fare una partita perché deve ancora farne una seria, Keita che non sa neanche come farlo giocare e Perisic che l'ha voluto tenere a tutti i costi e non sa gestirlo perché non è neanche che sia scarso di per sé è proprio che non lo sa gestire, cioè lo cuoce e questa è una cosa derivata ancora dall'anno scorso perché anche l'anno scorso era prevedibile che lo stesse cuocendo e anche questo l'avevamo ampiamente spiegato eppure niente da fare, avanti. Ora però tutto il web salta fuori contro spalletti. Come ben sapete, se mi seguite da parecchio, tutte queste cose e aggiunte anche molte altre, a livello tattico, a livello gestionale, Vessino e Gagliardini che non possono giocare insieme, mille altre cose, veramente mille cose che abbiamo analizzato insieme l'anno scorso, le dicevamo appunto dall'anno scorso, cioè da un anno e rotto un anno e mezzo fa perché di Borca Valero che doveva giocare dietro, che era fondamentale lì, addirittura risale ad agosto 2017, quindi figuriamoci. Io mi chiedo, ma tutta questa gente che adesso salta fuori, dov'era un anno fa? Cosa diceva un anno fa? Perché erano gli stessi che ci prendevano per il culo, erano gli stessi che dicevano fino a giugno, fino a maggio, che era grazie a spalletti che siamo arrivati in Champions, erano gli stessi, quindi, tra ipotesi, o stanno muti, o dicano apertamente che hanno tradito le loro posizioni adesso, oppure ammettano che non ci capiscono niente e che seguono le tendenze del momento. Sciacalli! Sciacalli si chiamano queste persone qua. E non venitemi a dire che sono troppo severo, che sono cattivo, che sono troppo rigido, che è giusto cambiare opinione, non venitemi a dire queste cose qua, perché non le accetto, perché quando uno si fa il culo per mesi, mesi, un anno, eccetera, a portare avanti certe posizioni contro una marea di gente, perché vai controcorrente, ma spiegandole non è che butto cose all'aria, perché cerco di spiegare le cose. Vi ricordo che il mio stemma, volete che vi faccio vedere il logo? Ve lo faccio vedere. Cosa rappresenta? Rappresenta il simbolo dell'Inter con dentro un messaggero. Ha tutto un significato quello che faccio, almeno parlo per me, quello che faccio io, ha sempre un significato. Cos'è questo messaggero? È il simbolo di qualcuno che vuole portare un contenuto, un messaggio, perché ha un obiettivo con il canale. Quindi, ripeto, posso permettermi adesso di essere un po' rigido e di dire le cose come stanno, perché è faticoso portare avanti certe idee, quando non sei capito, quando non sei apprezzato, quando tanti non capiscono le cose perché è troppo presto, e dici le cose controcorrente, perché tutto il web invece dice il contrario, dà la colpa ai giocatori. Quante volte abbiamo sentito l'anno scorso i giocatori fanno schifo, sono da sesto posto, è colpa loro, Spalletti è un dio, sta ottenendo il massimo dalla squadra, è colpa di ausilio, è colpa qua, colpa là. Quante volte l'abbiamo sentito? E io lì a spiegare il perché, il per come, argomentare, no, guardate che non è proprio tutto così. forse state sopravvalutando un po' Spalletti, forse hanno del merito anche i giocatori, forse ausilio in realtà non ha fatto un brutto mercato neanche l'anno scorso, e poi, no, bisogna comprare, allora, discorsi sul far play, vi spiego i bilanci, e tutto quanto, e anche su cose che non possono essere confutate, non possono essere messe in dubbio, perché i numeri, ragazzi, perché vi ho portato i numeri, perché mi diverto? No, perché non sono interpretabili, perché quelli sono, il bilancio, quello è, la regola del settlement agreement, quella è, non è che mi invento le puttanate, vado a leggermi i regolamenti, e quando fai una fatica bestiale a portare questi contenuti qua, e a un certo punto invece tutti adesso saltano sul carro a cazzo, onestamente mi chiedo, ma un anno fa, dov'erano? Da che parte spingevano la pubblica opinione? Fate vobis, ragionate con la vostra mente. Ripeto però, interisti si nasce, e questo fa figo dirlo, dai, eccolo qua, ogni tanto facciamo l'intermezzo. A proposito di contenuti che vanno contro l'apparenza, contro quello che uno subito può pensare, perché in realtà vanno analizzati con cura da qualcuno che ha qualche competenza, ma effettiva, non perché lo dico io, ma perché hai esperienza in quel campo lì, adesso vediamo l'analisi del gol preso ieri. Eccoci qua, allora, un tifoso poco attento potrebbe pensare che in questa azione qua la colpa sia, o di Versalico, o di Asamoah, eccetera. È chiaro che la colpa è sempre un fatto abbastanza distribuito, non è mai colpa solo di una cosa, però vediamo l'azione intanto. Questo è il lancio, Cancelo va in profondità, riceve palla, fa una specie di semi-finta dribbling, e palla sul secondo palo ed è gol. Allora, qua uno può pensare appunto a Samoa, è Versalico, in realtà, se voi avete seguito il mio ultimo video analisi sul gol di Under, cosa ho detto? Una cosa fondamentale, di chi è il terzino, ve lo ricordate? Di chi è il terzino che sale in sovrapposizione? Dell'ala, dell'esterno, è sempre così, ragazzi, non è che me lo invento io, perché poi c'è qualcuno che rompe le palle, non me lo invento io, basta studiare, si studia, se qualcuno non si fida, ma non so se, ma secondo me è così, ma forse è così, studiate, andate voi a studiare sui libri di tattica, a studiare calcio, ad allenare, e allora capirete, ma se uno è un allenatore non può dire una cosa diversa da questo, ok? Non ci sono margini di dubbi. Joao Mario, che è questo qua, ha come compito quello di marcare il terzino, allora uno può pensare, ma perché è qui? Cosa fa? un secondo prima c'era un'inquadratura, in realtà stavano parlando, questi qua, Joao Mario, Gagliardini, eccetera, al centrocampo perché c'era appena stato un fallo, mi pare su Dybala, che infatti parte, va via, quindi questi qua hanno perso tempo, nel frattempo Cansello è avanzato, Joao Mario ha dormito, e quindi non l'ha visto, ma, ma, è suo l'uomo, infatti Joao Mario, che lo sa che l'uomo è suo, si guarda pure indietro, guardiamo un attimo cosa fa Joao Mario, metto la velocità, bassissima, così che non ci siano dubbi, è la stessa cosa che ha fatto Keita, nella scorsa partita su Santon, che si accorge dell'uomo, perché sanno che è loro, lo sanno, lo sanno, perché sennò, perché uno va a guardarsi indietro da quella parte, se non è il suo compito, il compito qui di marcare Cristiano Ronaldo, è di Gagliardini, è della mezzala, e Versalico deve stare in linea, in questo caso, intanto per il fuorigioco, ma per coprire poi, un eventuale, inserimento tra le linee, dei vari trequartisti, della Juve, in questa azione qua, quindi non ci sono storie che tengano, ripeto, Joao Mario che sa, che è suo canselo, guardate, che si gira a guardarlo, guardate, avete visto che si è girato a vederlo, quindi si accorge, quando si accorge, si gira, perché guarda, si stanno facendo il lancio, ed è troppo tardi, perché il lancio, avviene proprio lì, e lui parte subito, perché sa, che quello è il suo uomo, che gli è scappato dietro, no, era di Versalico, non è vero, non è di Versalico, quell'uomo lì, ok, perché, se tu arrivi col terzino, loro, che è già in corsa qui, e il tuo terzino invece, che è un difensore, sta in riga, ed è rivolto verso l'avanti, è chiaro, che il terzino, è sempre avvantaggiato, sulla corsa, quindi sul lancio lungo, arriverà sempre primo, ecco perché il terzino, è sempre dell'ala, perché è un movimento a seguire, quindi non dà il vantaggio, della corsa, del tempismo, dello scatto, dell'infilata, chiaro, non voglio sentire più dubbi, su queste cose qua, come circolano sul web, ok, non voglio più sentire dubbi, infatti cosa succede, che Cancelo ha 4 metri, qua, se guardate l'inquadratura, in obliquo, no, sono 4 metri di vantaggio, ce li avrà fino in fondo, perché poi è uno anche veloce, anche se è Versalico, oppure è uno molto veloce, non riesce a recuperarlo, e ha tutto il tempo, di guardare la palla, guardare i compagni, come si dispongono in area, ha tutto il tempo, di controllare il pallone, tirare sulla testa, puntare pure l'uomo, Joe Mario in ritardo, quindi trova lo spazio pure, per il cross, e ragazzi, Asamoah, ce l'ha l'uomo, il problema è che, intanto, Manzokic, è 20 centimetri più alto di Asamoah, ha delle leve più lunghe, e ricordatevi, qualsiasi cross messo, poi in questo caso qui, è anche a togliere la traiettoria del portiere, perché lo fa col destro, ma da sinistra, quindi rovesciato, è un cross, tra virgolette, a rientrare così, quindi taglia fuori anche in parte il portiere, poi Andanovic in realtà, non è che sia proprio un genio su queste cose, ma tutte queste palle tese, messe così sul secondo pallo, sono velenosissime, difficilissime da marcare, difficilissime per un terzino, soprattutto se è 20 centimetri più basso, se ha delle leve più corte, eccetera, eccetera, quindi Asamoah ha delle responsabilità, ma relativamente basse, secondo me, perché le responsabilità sono sempre di come è nata l'azione, e abbiamo visto che è nata per quel motivo lì, dell'esterno, ragazzi, quindi poche papine, poche ciance su questi discorsi, qual è il punto qui, la chiave di tutto il discorso alla fine dei conti, la colpa di Gio Mario, sì, ok, ma chi è che l'ha messo lì? Spalletti, chi è che non capisce che è una mezzala? Perché Gio Mario stringe? Perché è una mezzala, la mezzala stringe, stringe sempre in mezzo al campo, pensa che questo qua sia l'uomo, poi se continuiamo anche a spostare gli uomini in mezzo alla partita, succede anche che uno si confonde, tra le cose, abbiamo appena recuperato un giocatore, già lo mettiamo in crisi spostandolo mille volte, quindi questo di sicuro non ha vantaggia, ma è una mezzala, ok, è una mezzala, e quindi Spalletti ancora una volta cicca, quindi la responsabilità, non la colpa in campo, la responsabilità di questo gol, purtroppo è ancora una volta del nostro mister, perché ragazzi, è importantissimo, saper far giocare bene la squadra, ma sapere anche qual è il ruolo dei giocatori che hai a disposizione, cioè le loro caratteristiche, in questo caso Gio Mario, l'altra volta era Keita, che Keita è un giocatore forte, come può esserlo anche Gio Mario, se viene recuperato, è un giocatore di qualità, tanti l'anno scorso lo offendevano in tutti i modi, ma ho sempre detto, ragazzi guardate che magari non è un top, ma è un buon giocatore, deve essere messo nelle condizioni giuste, nel suo ruolo, stessa cosa Keita, che secondo me, parere mio, è una seconda punta, quindi anche il gol di Under, eccetera, non è colpa di Keita, perché è scarso, eccetera, è semplicemente una seconda punta, quindi non ha quel movimento tipico che ha un esterno, un esterno come Politano, come Candreva, seguono il loro uomo, Perisic, infatti, guardate ancora una volta, che fa cagare Perisic, ultimamente lo sappiamo tutti, non sto dicendo che Perisic sta giocando bene, eccetera, però a livello tattico, il suo compito lo fa, guardate dov'è il terzino, l'Iksteiner, forse non lo vedete a schermo, perché è tagliato, vabbè, ma l'Iksteiner vi assicuro che è dietro a Perisic di due metri, perché Perisic è in vantaggio sul terzino, dall'altra parte succede l'esatto contrario, col terzino che sale e la nostra ala che non lo segue, penso sia chiaro, poi che Perisic sbaglia le esecuzioni in avanti, non sia brillante, non sia decisivo, quella è una condizione di forma, e anche lì responsabilità di Spalletti che non lo sa gestire, punto a capo. Ritorniamo in studio, e cosa vi dico? Che a mio avviso Spalletti ha finito i bonus, voglio che a dicembre ci sia una sfilza di vittorie, soprattutto voglio che alla fine del campionato si arrivi terzi almeno, se non arriviamo a quarti è da sfraccellarsi le mani, e poi soprattutto i gironi, voglio che passiamo i gironi, perché era abbordabilissimo passarli per come si era messa, invece siamo qua, che non sappiamo ancora se siamo passati, se dipenderà da noi, perché non dipenderà da noi, quindi Spalletti devi pregare tutti i santi, ti auguro di pregarli tutti, e che imblocchi quello giusto anche, che si passi. Se non arriviamo a quarti, fino a stagione, e non passiamo il giro della Champions, io chiedo l'esonero ufficialmente, o entro in sciopero. Chiaramente perché sono così critico? Perché un allenatore che attacca sempre i giocatori, sempre, sempre i giocatori, non hanno qualità, e lì ha fatto la disattenzione, e qui Politano è basso, ha detto, mi pare di aver sentito che Politano è basso, come fai a giocare per le altre? Politano è basso, quindi l'ha tolto. Se è vero questa roba qua, veramente, comunque un allenatore che attacca sempre i suoi giocatori, non fa mai autocritica, non è il mio allenatore, mi dispiace, quindi questa è la motivazione di questo sfogo, di questo attacco, che se l'è meritato, e per concludere, mi raccomando, f i cancelletto a per sempre, che significa forza inter, quel f i star forza inter, cancelletto a per sempre.